Ben trovati. Quindi culturalmente inaugura questa nuova edizione dedicata appunto alla rubrica a 360 gradi, rubrica che parla di cultura e inauguriamo questa nuova edizione dell'autunno-inverno 2016-2017 con un ospite d'onore, il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Quindi sapete che ottobre da qualche anno è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori, in particolare i tumori alla mammella e ovviamente non potevamo non esimerci da questo impegno invitandolo come ospite nella nostra rubrica culturalmente. Grazie professore per aver accolto per l'ennesima volta il nostro invito a partecipare qui per fare informazione. Si parte dalla prevenzione, questa è la ventiquattresima campagna Lilt for Women che avete appunto messo in piedi con la figura di Elisabetta Gregoraci come testimonial di questa edizione per parlare di prevenzione. Sono cambiati nel corso degli ultimi anni i dati, i numeri, le proiezioni, le tendenze, le malattie, i vari tipi di tumore, è cambiato un po' tutto. Allora, da dove partiamo? Partiamo da un messaggio che è quello che leggevo anche sulla rassegna stampa e un po' il sunto della conferenza stampa che si è tenuta anche a Roma. Il messaggio questa volta è indirizzato alle più giovani, non si parla più di prevenzione dai 40 anni o 50 anni addirittura, ma l'età si è abbassata, l'età dei tumori si è abbassata e la Lilt vuole toccare il cuore e la sensibilità delle più giovani. Che cosa è successo negli ultimi anni? Ma intanto mi permette di complimentarmi con voi per questa nuova rubrica. In effetti noi cerchiamo della Lilt di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. La cultura della prevenzione significa dare informazione corretta, l'informazione corretta è già la base dell'educazione sanitaria e l'educazione sanitaria è il primo gradino della prevenzione. Quindi l'importanza è strategica perché oggi sappiamo che l'unica arma efficace vincente contro il cancro è la prevenzione. Quindi dobbiamo sapere messaggiare e attenzionare tutta la popolazione sul ruolo della prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il cancro. Noi sappiamo che purtroppo ogni giorno, oggi per esempio, domani, oltre mille italiani scopriranno di essere affetti da un cancro, di avere un cancro. Cioè sono 370 mila gli italiani che svilupperanno nel giro, nell'arco di un anno, il tumore, il cancro. Noi dobbiamo cercare di farlo scoprire, questo cancro, quanto prima possibile perché la diagnosi precoce aiuta a guarire da questa malattia, non soltanto a sapersi curare da questa malattia. Ecco l'importanza della prevenzione. Per quanto riguarda i tumori in particolare, i tumori al seno, i tumori della donna, il tumore al seno rimane ancora purtroppo il big killer numero uno, cioè il tumore più frequente. Se voi considerate che su 100 donne che hanno un cancro, 29, quindi un terzo, interessa il seno, sviluppano cancro al seno. Questa la dice lunga sull'importanza della conoscenza di questo problema. Il tumore al seno è un tumore destruente, destabilizzante sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto anche economico, oltre che su quello sociale. Poi l'organo è un organo un po' particolare, perché parliamo di un organo sensibile che rappresenta il simbolo stesso della femminilità, di un organo che per le nostre donne, le donne meridionali in particolare, è quasi deputato alla continuità della specie umana attraverso l'allattamento. Un organo che svolge tre nobili funzioni, una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale. Quindi guardate quanta importanza si rivolge a questa patologia. Considerate anche che quest'anno saranno 50.000 le donne italiane che svilupperanno un tumore al seno, che scopriranno di avere un tumore al seno. E di queste circa 5.000 saranno pugliesi. Ecco l'importanza di una prevenzione molto attenta, molto accurata, e di un'informazione corretta che deve partire proprio dalla scuola, deve partire dall'età scolare. Io dico sempre, come le nostre ragazze, dopo la prima esperienza sessuale, dopo il primo atto sessuale, eseguono il pap test e sanno dell'importanza del pap test, la stessa cosa deve accadere per la mammella, sapendo che la mammella è un organo più sensibile rispetto alla sfera genitale femminile. E allora la ragazza, dai 16, 17, 18 anni, deve imparare a palparsi la mammella, a fare l'autoesame mensilmente. A distanza di 10 anni conoscerà benissimo il proprio seno, e quindi potrebbe anche accorgersi di qualche alterazione, di qualche cambiamento, di qualche mutamento rispetto ai mesi precedenti, e rivolgersi quindi dal medico per dire noto qualcosa di diverso rispetto a due mesi fa, tre mesi fa. E' importante questo perché le nostre donne, purtroppo, circa il 60% delle donne meridionali scoprono loro stesso di avere un nodulo e si rivolgono dal medico dicendo scoperto questo nodulo, ma quando scoprono questo nodulo è già un po' in fase avanzata, noi dobbiamo fare in maniera tale che questo nodulo venga scoperto quanto prima possibile. Fare l'autoesame non significa fare diagnosi, perché questa è una competenza del medico, fare l'autoesame significa portare la donna a conoscenza di questo fenomeno, di questa problematica, informarla correttamente, acquisire quella sorta di familiarità, di confidenza con questo corpo, con questo organo, conoscerlo meglio, e quindi poter venire incontro a quelle che devono essere, che potrebbero essere anche domani, le varie patologie che possono sorgere, perché non è soltanto il cancro che si sviluppa a livello del seno. Questo è estremamente importante perché la ragazza, dopo aver seguito questi esami, deve sapere che, così come fa il pap test, a partire dai 25 anni ogni mese deve eseguire l'autoesame, ma ogni anno, a partire dai 25-30 anni, deve eseguire una visita senologica ed un'ecografia. La visita senologica ed un'ecografia poi vanno accompagnate anche ad una mammografia che deve essere eseguita a partire dai 40 anni, ogni anno, vita natural durante, perché il cancro al seno non bussa la porta a 50 anni e esce dalla porta a 69 anni, e si presenta ogni due anni, non è così. Il cancro, purtroppo, stiamo registrando una incidenza sempre più marcatamente giovanile, cioè noi abbiamo il 30% delle donne che sviluppano un tumore al seno al di sotto dei 50 anni. Io recentemente ho operato, negli ultimi 15-20 giorni, 6 donne al di sotto dei 40 anni con cancro al seno. Ora noi dobbiamo prenderci cura di questa fascia di giovani donne, perché loro hanno un'aspettativa di vita fino a 90 anni e noi dobbiamo fare in maniera tale che possano guarire da questa malattia. Questo è un problema forte, ed è un problema anche che ci vede un po' in sofferenza, perché non eseguiamo, non facciamo eseguire, non siamo capaci, evidentemente, sotto l'aspetto anche organizzativo, di fare eseguire lo screening a tutte le donne. Lo screening a tutte le donne dai 50 ai 69 anni, ma noi dobbiamo preoccuparci anche di quello al di sotto dei 50 anni. È proprio quello che volevo chiederle. Se lo screening gratuito viene fatto eseguire alle donne dai 50 anni in su, e invece l'età si è abbassata, come ha detto ampiamente, colpisce le giovani al di sotto dei 40 anni, e questo è uno dei problemi che caratterizza quello economico, con la spesa e ovviamente il dolore di chi è colpito da tumore. Allora, qual è l'appello che bisogna lanciare alle istituzioni affinché ci sia un punto di accordo, perché non c'è congruenza tra questi due dati? Le istituzioni devono investire in salute e non in malattia, e quindi devono sapere che se io oggi investo in salute, nel senso che obbligo tutte le donne, le donne pugliesi per esempio, le donne della BAT, o le donne di ogni provincia, a eseguire determinati esami, devo sapere che con questi esami che eseguono, anche se si dovesse scoprire un tumore, questa guarisce completamente, questa persona guarisce, questa donna guarisce, e quindi non ha una ricaduta anche economica sul resto della società. Quindi io sto investendo in salute perché diventerà attiva, continuerà il proprio lavoro, continuerà la propria vita in maniera normale, quotidiana. Questo è l'impegno. Deve esserci un impegno anche delle scuole. Le scuole devono attivarsi affinché dai 16, 17, 18 anni, i nostri ragazzi imparino l'autopalpazione, conoscono questo problema. E a partire dai 25 anni dovremmo fare eseguire una visita senologica, come ho detto, ed una ecografia a tutte le donne, con l'aggiunta della mammografia. Qual è il problema? Le risorse non ci sono. A parte il fatto che io devo investire in salute, non in malattie, quindi devo trovare le risorse, e se andiamo a vedere le risorse, ci sono, ma indipendentemente da questo, due sono le strade da percorrere. O io impongo questo screening, visita e ecografia, e poi mammografia a tutte le donne, dicendo guardate però, che le donne abbienti, cioè le donne che possono permetterselo, devono pagare la prestazione sanitaria, voi la visita, l'ecografia, la mammografia, una sorta di vaccinazione, di chiamata di queste donne, chi ha un reddito di 70, 80, da stabilire, mila euro l'anno, deve pagarsi, perché non ricada poi la sua malattia, anche sotto l'aspetto finanziario, sul resto della comunità, della società. E quindi a favore questo andrebbe delle donne che non possono permettersi di pagare questa prestazione. Questo può essere una via percorribile. L'altra via è quella di stimolare le donne e direi guardate, dovete andare una volta in meno all'anno dal parrucchiere all'estetista e fare la mammografia, fare l'ecografia. Sarà contento anche il parrucchiere, anche l'estetista, perché andranno sino a 90 anni e andranno in salute, andranno bene. Viceversa, se dovessero ammalarsi, non andrebbero più, sarebbero costretti a non andare e quindi perderebbe anche l'estetista e il parrucchiere. Ha parlato di prevenzione. Uno degli elementi che ha aiutato anche la cura del male, del cancro, è dovuto proprio alla diagnosi. Sono cambiati gli strumenti, i macchinari, ecco chiamiamoli così volgarmente. Cosa è successo sotto il profilo scientifico? Beh, da un punto di vista scientifico abbiamo assistito ad una rivoluzione dell'imaging, nel senso che dieci anni fa noi non disponevamo della risonanza magnetica mammaria, della PET, della TAC, dell'ecografia con elastrosonografia, come ora, oppure del mammografo con tomosintesi a 3D, a tre dimensioni, come ora. Quindi oggi riusciamo a sezionare proprio il nostro corpo, in questo caso il nostro seno, fettina per fettina e poter scoprire un tumore in fase iniziale. Se io scopro un tumore e oggi lo riesco a scoprire con questo scenario, con questo panorama di tecnologie avanzate di cui possiamo soffrire, beh, oggi io scoprendo un tumore di 3, 4, 5 mm io lo posso non solo aggredire, non solo curare, ma addirittura guarire, perché quel tumore di quei 3, 4, 5 mm scoperto grazie a questa tecnologia che è molto più attenta, più pulita, più sofisticata, più precisa, più puntuale, beh, io quel tumore ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso e il processo di metastatizzazione cioè che possa diffondersi in altri organi o apparati è nullo. Quindi io sto offrendo anche un incentivo alla donna perché dico, guarda, tu sottoponendoti a questi controlli puoi scoprire un tumore di pochi millimetri. Questo tumore non sarà un tumore altamente maligno. io te lo posso curare rimuovendolo addirittura senza deturpare, senza guastare, senza far sì che la mammella possa essere demolita con un intervento conservativo, più che accettabile anche sotto l'aspetto estetico, cosmetico, manterrai integro questo tuo organo, il seno e nello stesso tempo guarirai da questa malattia. Questo è un espediente che dobbiamo cercare di far intendere alle nostre donne che peraltro sono intelligenti ecco perché chiedono giustamente di poter eseguire questi controlli però i controlli devono essere eseguiti a tempi reali non fra due anni, tre anni, quattro anni o quant'altro perché quello è delituoso. Ecco l'importanza dello screening, l'importanza dell'organizzazione anche nell'ambito sanitario di dare risposte concrete alle donne su questa tematica. è estremamente vitale questo discorso perché parliamo di una guarigione oggi che si è registrata intorno all'80% ma riguarda l'80% di tutta Italia per quanto riguarda il tumore al seno potremmo oggi arrivare addirittura al 95% di guaribilità se sottoponessimo tutte le donne italiane a queste campagne di screening a queste campagne di sensibilizzazione significherebbe che questa malattia è superata non esiste più invece oggi abbiamo ancora soprattutto nel mezzogiorno d'Italia per la carenza anche di servizi e per la disorganizzazione abbiamo ancora una fascia di diverse migliaia di donne che arrivano tardivamente alla diagnosi di cancro al seno e quindi sono costrette ad affrontare tematiche forti cruenti come per esempio trattamenti con la chemioterapia la radioterapia e quant'altro noi dobbiamo farci carico di questa responsabilità che abbiamo e che dobbiamo venire in conto a queste esigenze e far sì che anche le nostre donne siano alla pari delle donne settentrionali quindi garantendo questi servizi e nello stesso tempo facendole guarire nel 90-95% dei casi la donna chiede questo perché la donna vive anche in un contesto con altre donne che hanno vissuto questa esperienza al cancro al seno e che le vedono sono state operate da anni da decenni e vivono normalmente come vivono normalmente le donne che hanno l'ipertensione il diabete l'artrosi cioè si sta cronicizzando la malattia l'impegno deve essere forte come messaggio e le donne devono saper richiedere queste prestazioni professore quali sono le cause che determinano il tumore al seno le cause sono molteplici non sappiamo quale sia la causa determinante però diciamo che abbiamo un ventaglio di fattori di rischio che noi chiamiamo il primo fattore di rischio è dovuto al fatto che abbiamo assistito ad una sorta di cambiamento dell'attività riproduttiva della donna che significa le nostre madri e le nostre nonni avevano il menarca il primo ciclo mestruale in età molto tardiva 13, 14, 15 anni e andavano in menopausa in età molto giovanile 45, 46, 47 anni oggi invece le nostre ragazze hanno il menarca il primo ciclo mestruale in età molto precoce 9, 10, 11 anni e le nostre donne vanno in menopausa in età molto tardiva dopo i 50, 55 anni quindi si è allungata la fascia di fertilità della donna sono aumentati il numero dei cicli mestruali ora la mammella è un organo ormonodipendente quindi si è creato una sorta di squilibrio tra virgolette endocrino-ormonale nella donna poi le nostre madri andavano in conto al matrimonio in età molto giovanile 20, 21, 24, 25 anni oggi le nostre figlie vanno in conto al matrimonio in età molto tardiva dopo i 30 anni le nostre madri subito avevano la prima gravidanza e facevano più gravidanze avevano facevano quasi a gara sulle gravidanze come facevano a gara anche sul periodo dell'allattamento si allattava di più si avevano più figli oggi invece le nostre donne le nostre giovani mamme hanno un figlio dopo i 30-35 anni se dovesse avere due figli già la famiglia diventa numerosa ha tre figli quasi quasi viene dalla voglia di chiedere un sussidio allo Stato quindi il numero si è ristretto l'allattamento per varie motivazioni è venuto anche meno praticamente la donna ha messo in disuso in disano quest'organo non facendo svolgere più le funzioni che svolgeva prima ho detto una funzione sessuale una funzione estetica una funzione materna non svolge più queste funzioni questo è un primo elemento il secondo è legato al fatto di una predisposizione familiare e quindi le donne che hanno nell'ambito della propria famiglia casi di cancro al seno congiunti con cancro al seno devono sapere di essere donne a rischio poi la corretta alimentazione un'alimentazione non rispettosa della nostra dieta mediterranea favorisce lo sviluppo di un cancro al seno le donne in sovrappeso sarà difficile che lei prenda sviluppo un cancro al seno per questo motivo ma le donne in sovrappeso hanno un rischio maggiore le donne con diabete le donne ipertese questi sono tutti elementi validi da considerare come fattori di rischio in più si aggiunge anche il tabacco il tabagismo è responsabile del 10% dei casi di cancro al seno questo che significa che se io vado a mettere insieme e ho detto mettere insieme non ho detto sommare i vari rischi o un'alimentazione un po' sregolata o un disturbi a livello endocrino-ormonale fumo o quant'altro il rischio di ognuno di questi fattori non si va a sommare ma a moltiplicare quindi esponenzialmente il rischio aumenta di sviluppare un cancro al seno questo è il motivo essenziale per cui le donne dovrebbero conoscere questi elementi e nello stesso tempo saperli affrontare io nel frattempo professore sfogliavo l'opuscolo della Lilt io faccio prevenzione che si concretizza anche con il nastro rosa che noi abbiamo appositamente collocato sulla maglia sono tantissime le sezioni in tutta Italia le sezioni provinciali della Lilt che stanno lavorando per fare prevenzione si è creata una vera e propria rete di collaborazione per la sezione BAT ma lo diciamo solo perché Telesveva ha sede nella città di Andera quindi in una delle città co-capoluogo della provincia ed è anche una realtà a noi vicina quella presieduta da Michele Ciniero sta portando avanti tante iniziative come tra l'altro nel resto delle altre sedi ci saranno saranno illuminati di rosa i monumenti simbolo delle varie città e quindi a segno proprio della prevenzione sono tantissime ripeto le iniziative che state portando avanti nella BAT in particolare qual è la situazione oltre al simbolo ecco ci saranno comunque delle sezioni degli ambulatori a disposizione di eventuali donne che vogliano fare prevenzione come sarà strutturata questa campagna nel mese di ottobre noi intanto abbiamo una linea verde che è attiva tutti i giorni per dare spiegazioni consigli suggerimenti composta da psicologi da medici da volontari e questo è un primo una prima disponibilità e poi nei vari ambulatori della Lilt che sono sparsi in tutta Italia che sono circa 390 effettuiamo delle visite senologiche gratuite e lì dove occorre anche degli esami diagnostici strumentali approfonditi questo accade in tutto in tutto il paese in più per sensibilizzare proprio il mondo giovanile ci sono tanti monumenti che saranno illuminati in rosa il castello a Balletta per esempio ma a Roma il Colosseo o quant'altro tutte iniziative che servono soltanto ad attirare la problematica su questo mese un mese che deve essere però un mese pioniere ma poi la prevenzione deve essere continuata è fatta 365 giorni l'anno questo è il messaggio forte per quanto riguarda la BAT beh qui avete un presidente Michele Cigniere effervescente vulcanico sotto certi aspetti che sa ben comunicare e che quindi dà un apporto notevole a livello di sensibilizzazione di testimonianza della Lilt nei confronti della gente sana per non farla ammalare di cancro noi siamo in chiusura però dovendo distinguere dovendo lanciare dei messaggi brevissimi e dovendo distinguere le varie fasce d'età delle donne per non so ventenni trentenni quarantenni cinquantenni che cosa direbbe per ciascuna di queste di sottoporsi comunque a questi esami a partire dall'autoporporazione la visita senologica costantemente ogni anno e l'ecografia questo è importante e poi a partire dai quarant'anni di eseguire davvero la mammografia ogni anno perché scopriamo un tumore in fase iniziale abbiamo guarito quella donna quella donna è ritornata nell'ambito della società nell'ambito della famiglia così come era prima e il cancro lo ha accantonato lo ha debellato completamente questo è il messaggio forte che voglio che voglio trasmettere perché io vado in crisi quando mi capitano donne purtroppo me ne stanno capitando sempre di più donne al di sotto dei 50 anni perché so che quel tumore ha un'aggressività maggiore rispetto alle donne che hanno superato i 50 anni nelle donne pre-menopause il tumore ha sempre degli elementi più aggressivi per cui io prima lo scopro meglio riesco non a curarlo ma addirittura poter parlare di guarigione assoluta grazie allora ottobre è il mese della prevenzione ma si dovrebbe fare si deve fare prevenzione tutto l'anno la Lilt è qui per questo con la illustre presenza del professor Francesco Schitulli che è presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta ai tumori professore grazie ancora una volta per aver accolto il nostro invito e per aver speso queste importanti parole speriamo che arrivino a tutti e che tutti possano fare prevenzione con piccoli gesti una corretta alimentazione sport e poi soprattutto fare diagnosi culturalmente torna termina qui ci vediamo la prossima settimana per un altro approfondimento grazie ancora al professor Schitulli e tutti i soci della Lilt che operano per il volontariato e operano per il bene di chi è colpito dal tumore grazie a tutti per averci seguito ci vediamo la prossima settimana arrivederci per averci seguito per averci seguito la prossima settimana per averci seguito per averci seguito la prossima settimana per averci seguito